ben trovati ad una nuova lezione del corso di montaggio video con adobe premiere 2019 sono fabio ambrosi e oggi vedremo cos'è e come funziona una timeline nella scorsa lezione abbiamo visto come creare una timeline e soprattutto abbiamo visto a cosa stare attenti quando creiamo una nuova timeline abbiamo visto quali sono gli errori che possono essere commessi in fase di creazione di una timeline oggi vedremo un attimino più nel dettaglio cos'è una timeline e come funziona dico subito che è una lezione veramente per principianti quindi probabilmente se già avete esperienza con le timeline di altri software di montaggio secondo me potete anche passare oltre e andare alla lezione successiva se invece non avete mai lavorato con un software di montaggio video e volete capire un attimino di cosa stiamo parlando seguite con molta attenzione questa lezione vi ricordo anche che tutte le lezioni del corso di editing video con adobe premiere sono disponibili gratuitamente sul mio canale youtube quindi iscrivetevi per restare sempre aggiornati sui nuovi tutorial e soprattutto vi invito a visitare il mio sito internet www.fabioambrosi.it non per qualche motivo particolare ma semplicemente perché sul mio sito sono presenti tutte le lezioni che ho realizzato fino ad ora con un indice con tutti gli argomenti che abbiamo già trattato e che tratteremo nelle settimane future quest'oggi vedremo come detto cos'è come funziona una timeline che in premiere viene chiamata anche ovviamente sequenza sul sito internet c'è un articolo ovviamente che approfondisce il contenuto della lezione che stiamo facendo quindi se avete voglia e o non vi ricordate qualcosa potete utilizzare il sito internet sempre come riferimento per recuperare informazioni che magari vi servono al volo dunque non perdiamo ancora tempo e vediamo cos'è e come funziona una timeline allora cos'è una timeline lo abbiamo già detto nelle lezioni precedenti una timeline non è altro che un contenitore all'interno del quale noi andremo ad assemblare il nostro materiale multimediale per creare il nostro video ok lo abbiamo già visto questo nelle lezioni precedenti ma come funziona esattamente una timeline in premiere una timeline ha due sezioni principali una sezione quella superiore in cui verranno inseriti tutti quelli che sono gli elementi video del nostro contenuto multimediale e una sezione inferiore all'interno del quale andremo ad inserire tutti quelli che sono invece gli elementi audio del nostro contenuto multimediale quindi la timeline può essere divisa in due macro sezioni nella sezione superiore troveremo fotografie video grafiche titoli e quant'altro nella sezione inferiore invece troveremo sostanzialmente l'audio quindi effetti sonori speaker musiche voce di eventuali intervistati eccetera 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 se torniamo un attimino su adobe premiere possiamo un attimino vedere più concretamente ciò di cui stiamo parlando questa è una timeline molto semplice molto molto semplificata come potete vedere questa timeline è divisa in due parti la sezione superiore conterrà le nostre immagini i nostri contenuti multimediali mentre la sezione inferiore conterrà quelli che sono invece i nostri contenuti multimediali audio ok potete fare la prova del 9 andando a vedere come sono chiamate le singole tracce di una timeline come potete vedere le tracce video hanno una v iniziale ok che ci indica appunto che stiamo lavorando una traccia video le tracce audio invece hanno una a a simboleggiare appunto che questa traccia è una traccia audio a proposito cos'è una traccia ecco una traccia potete immaginarla come una corsia autostradale no vedete questa è una traccia chiaramente all'interno di una corsia di una traccia in un determinato momento può andare soltanto un elemento ok stessa cosa per quanto riguarda le tracce audio le tracce audio sono delle corsie chiamiamole così per il momento al cui interno possiamo trovare quelli che sono quelli che sono i nostri elementi audio del nostro contenuto multimediale non vi preoccupate lo vedremo in azione nelle lezioni nelle lezioni successive domanda che può sorgere spontanea se noi volessimo montare un video e in un determinato momento della nostra timeline abbiamo più elementi video come per esempio questo momento qui vedete abbiamo ben tre elementi sovrapposti abbiamo la traccia v1 la traccia v3 e la traccia v4 ok ingrandisco così potete vedere meglio di cosa sto parlando in questo preciso istante della nostra timeline è un attimino eccoci qua in questo momento della timeline quale immagine tra questi tre elementi video verrà mandato al nostro monitor quale immagine tra questi tre noi visualizzeremo bene come in tutti i principali software di editing video vige la regola che comanda la traccia video più in alto ok tralasciamo per un momento le tracce audio per cui vale una regola diversa per quanto riguarda il video vince sempre l'elemento che si trova più in alto quindi in questo punto della timeline verrà visualizzato questo blocchettino rosa in questo momento della timeline andiamo avanti torno a schermo intero eccoci qua in questo momento della timeline verrà visualizzato questo blocchettino della traccia v3 e in questo momento successivo della timeline non essendoci nulla a coprire vincerà questo elemento della traccia v1 la prova del 9 anche qui è molto semplice guardate questo che è il nostro monitor programma vale a dire il monitor in cui visualizzeremo l'output di quello che stiamo facendo qui nella timeline in questo momento della nostra timeline c'è questa fotografia ok del castello che abbiamo già visto la settimana scorsa quando abbiamo visto come creare una timeline chiaramente in questo punto della timeline esistono gli altri due elementi video ma sono nascosti nascosti appunto dall'elemento che si trova più in alto nel nostro spazio quindi dalla nostra fotografia appena la nostra fotografia finisce ok e termina viene visualizzato quello che è il contenuto multimediale che si trova subito sotto vedete che qui non c'è più la nostra fotografia a coprire e quindi questo il contenuto della traccia v3 verrà visualizzato sul nostro schermo se andiamo ancora avanti vedete che finisce anche questo elemento della traccia v3 e c'è soltanto questo elemento della traccia v1 che chiaramente non avendo nulla ad ostacolarlo non essendoci elementi a coprirlo verrà mandato in output sul nostro monitor programma quindi come regola per quanto riguarda gli elementi video di una timeline ricordatevi sempre che vince il blocchettino che si trova più in alto ok se ovviamente ipotizziamo non esistesse nessun blocchettino nella timeline come in questo caso che ho appena simulato lo schermo chiaramente resterebbe vuoto quindi diciamo nero per il momento anche se non è proprio corretto ok per quanto invece riguarda l'audio che cosa succede per quanto riguarda l'audio chiaramente il problema di quale traccia vince non si pone perché se è vero che per quanto riguarda il video noi possiamo visualizzare un'immagine alla volta a meno di non utilizzare effetti che vedremo più avanti nel corso per quanto riguarda l'audio nessuno ci vieta di ascoltare contemporaneamente due tracce immaginate che avete un intervistato che vi sta raccontando la sua giornata e immaginate che volete mettere sotto la voce dell'intervistato una musica che descriva un attimino le sensazioni che prova l'intervistato nessuno vi proibisce di poter tenere la voce più alta e in sottofondo la musica quindi come potete vedere non c'è il problema di quale traccia audio vince guardate questo esempio in questo primo blocchettino abbiamo solo le campane successivamente mettiamo in solo successivamente abbiamo il rumore del vento che ho registrato sempre durante la realizzazione di queste di queste riprese ok sopra abbiamo le campane mettiamo in solo la traccia ecco qua ok qui chiaramente finisce quindi non si sente più quale traccia verrà mandata in output ovviamente tutte e due perché chiaramente possono coesistere allora se io mando in play avete visto sentiamo sia la traccia delle campane che la traccia degli effetti in sottofondo se volete iscrivetevi al mio canale youtube per non perdervi i prossimi tutorial se volete recuperate le lezioni fatte fin qui vi ringrazio e ci sentiamo se vorrete nella prossima lezione ciao